Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, Dio nostro, che nel tuo infinito amore hai donato alla Chiesa il servo fedele e umile Padre Slavko, ti ringraziamo perché attraverso la Regina della Pace sappiamo che il nostro fratello Slavko è nato al cielo e intercede per noi. Nella certezza di questa realtà ti chiediamo dunque, per intercessione di Padre Slavko, la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nel mondo intero. Dona, Signore, alla tua Chiesa di poter elevare agli onori degli altari il nostro fratello Slavko, affinché il tuo nome sia glorificato e tutti conoscono l'amore che tu hai rivelato nelle sue azioni in favore dei più piccoli, dei più poveri e indifesi. Te lo chiediamo per la potente e materna intercessione della Regina della Pace, Traliz e Mira. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.